Si dovranno aspettare almeno 15 giorni per avere i risultati degli esami istologici e tossicologici sui campioni di tessuti prelevati durante le autopsie sui corpi di Silvia Marzaro e dei genitori Italo e Ubaldina. Risultati che saranno indispensabili agli inquirenti per far luce sulla vicenda dell'omicidio suicidio di Asiago, un caso tutt'altro che scontato tant'è che nelle ultime ore si è fatta strada una nuova ipotesi investigativa. I due anziani coniugi potrebbero essere stati soffocati con un cuscino o addirittura con le mani da parte della figlia. Intorno alla bocca infatti ci sono segni di violenza. Italo e Ubaldina sono stati costretti con la forza a ingoiare il cocktail di psicofarmaci oppure sono stati soffocati. Fondamentali a questo punto saranno i risultati dei test che diranno con certezza se ci sia stata l'assunzione dei medicinali. Farmaci che Silvia comunque avrebbe rimesso nell'armadietto prima di strozzarsi con le due cinture. Nessuna boccetta è stata rinvenuta sparpagliata in quella casa di vacanza, divenuta luogo dell'orrore. Certo l'ipotesi rimane quella del duplice omicidio-suicidio ma a questo punto la scena del crimine sarebbe diversa. Silvia potrebbe aver somministrato i farmaci facendo cadere nel sonno i due genitori trovati a letto con le mani giunte e le coperte rimboccate per poi portare a termine il suo progetto diabolico. Un odio profondo quello della donna verso la madre e il padre che considerava oppressivi e ai quali addebitava i suoi insuccessi. La chiave di lettura della tragedia potrebbe essere proprio nei biglietti rinvenuti dai carabinieri. Due fogli con la scritta maledetti e la calligrafia secondo gli inquirenti sarebbe proprio quella di Silvia. Intanto il materiale rinvenuto nell'abitazione è stato sequestrato e sarà inviato ai RIS di Parma. Gli stessi carabinieri del reparto investigazioni scientifiche potrebbero arrivare nei prossimi giorni nella casa di Asiago.